Si terrà domani all'Aquila un convegno delle principali sigle sindacali per denunciare la desertificazione degli sportelli bancari, soprattutto nelle zone interne della nostra regione. Nelle 2010 le filiali bancari operanti in Abruzzo erano 701 in 171 comuni. I dati di oggi evidenziano una realtà molto differente con 429 filiali in 126 comuni prevalentemente posizionati sulla zona costiera. Il fenomeno in forte progressione e le banche denunciano i sindacati concentreranno i piani industriali su ulteriori razionalizzazioni. Domani faremo questa tavola rotonda. Gli invitati sono tutti quanti i sindaci della regione Abruzzo perché vogliamo in qualche modo sollecitare il loro interesse e il loro intervento per far sì che questo fenomeno in qualche modo venga arginato. È un fenomeno che è nato ormai da una decina d'anni, cioè da quando praticamente tutte le banche locali, cioè l'ex Cassia di Risparmio in sostanza hanno perso la loro autonomia e sono state incolbate dai grossi istituti di credito. Attualmente vediamo che tutte quante le grosse banche stanno, come dire, loro dicono razionalizzando la rete degli sportelli. Questo significa in sostanza che gli sportelli nelle zone interne e nei piccoli paesi perdono la loro autonomia, spesso vengono anche chiusi. Questo comporta, accanto alla chiusura dello sportello, accascata anche la chiusura di tante altre attività commerciali, imprenditoriali che sono nel comune. Proponiamo un osservatorio degli accadimenti per convincere la politica e quindi la regione Abruzzo ad aprire un tavolo con le singole banche che prima delle chiusure, perché queste cose le sanno prima, possono in qualche modo comunicare le volontà e vedere quali sono in generale i loro processi riorganizzativi ed avere un quadro completo e complessivo per capire come si può convincere una banca a rimanere su un territorio e non lasciare i singoli sindaci, perché sta accadendo questo, che chiedono il favore alle singole banche di poter lasciare un banco mattiloco o poter fare qualche, di avere la possibilità di avere una filiale anche con pochi colleghi. Chiediamo un intervento regionale, non a caso questa tavola rotonda la si svolge proprio nella sede tipica della regione Abruzzo affinché siano coinvolti tutti gli operatori di questo settore ma non solo, tutte le parti sociali, tutti gli operatori economici anche affinché si ponga rimedio a questa situazione, si studi una soluzione condivisa buona per risolvere le varie esigenze, fermo restando che le decisioni a questo punto sono già state tutte prese, quindi sicuramente non si tornerà indietro, ma bisogna trovare una modalità per armonizzare e per diminuire per quanto possibile questi disagi.